Virginio Merola attacca duramente il Consiglio Comunale dopo le spaccature sulla cittadinanza onoraria ad Anna Maria Cancellieri. Un'indecenza e una mancanza assoluta di buonsenso, dice il Sindaco. Mondo politico bolognese sotto accusa sulla vicenda Cancellieri. Molte le critiche per le polemiche che hanno costretto il Ministro dell'Interno a rinunciare alla cittadinanza a ETV Monsignor Vecchi dice è una figuraccia. Ok alle liberalizzazioni ma le decidiamo noi. Il Comune per bocca dell'assessore Andrea Colombo interviene sullo scontro tra governo e taxisti e chiede una maggiore autonomia per gli enti locali, soprattutto per ciò che riguarda gli orari dei negozi. Sulla vicenda Civis, Giorgio Guazzalocca rinuncia ad ogni possibile prescrizione ed è pronto a presentare in procura una memoria difensiva che sottolinei la sua totale innocenza. L'ex sindaco indagato per corruzione si dice fiducioso in una completa archiviazione. Gli atti firmati da Marco Lombardelli sono illegittimi e quanto emerge oggi nella vicenda dell'ex capo di gabinetto del Comune, dimessosi in seguito alle polemiche sul suo titolo di studio, lo ha confermato il segretario generale di Palazzo d'Accursio. Buonasera e benvenuti a ETG. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, attacca a testa bassa il Consiglio Comunale e anche in qualche modo parte del mondo politico bolognese che in questi giorni, come sappiamo, si è diviso sull'ipotesi di cittadinanza onoraria ad Anna Maria Cancellieri, ex commissario del Comune di Bologna per più di un anno. Tanto che l'attuale Ministro degli Interni ieri è stata costretta a fare un passo indietro rinunciando alla candidatura per non creare ulteriori polemiche. Torna nel mirino dunque la classe politica accusata di seguire soprattutto gli interessi di parte. Vediamo il primo dei nostri servizi. Prendo atto che questo Consiglio, in molte delle sue componenti, non è in grado nemmeno di rappresentare con decenza la città in situazioni di questo tipo, con un minimo di buon senso e di capacità unitaria. Me ne dispiace tantissimo per la Cancellieri, me ne dispiace tantissimo per i tanti cittadini che avrebbero giudicato ovvio e normale, al di là delle diverse posizioni politiche di parte, di conoscere i meriti di questa persona con una cittadinanza onoraria. Parole durissime contro il Consiglio Comunale e in generale contro gran parte del mondo politico bolognese. La rabbia del sindaco Virginio Merola esplode poco dopo le 12 di oggi a Palazzo d'Accursio, prendendo spunto da una domanda sulla rinuncia di Anna Maria Cancellieri alla cittadinanza onoraria. Troppe polemiche, troppe divisioni su di me, aveva detto ieri l'ex commissario ed attuale ministro degli interni, ufficializzando il suo passo indietro. Un gesto di stile ma anche in qualche modo un segnale ad una classe politica che continua, nonostante tutto, ad accapigliarsi per interessi di parte, lontana mille miglia dal sentimento popolare dei cittadini. Una piccola città, aggiunge Merola, riferendosi a quella che possiamo definire la città dei partiti, non degna invece della città vera, Bologna, grande per quello che sa rappresentare quello che sa esprimere. Merola ha comunque confermato che presto il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri sarà in città per la firma del patto sulla sicurezza e per accompagnare il presidente Giorgio Napolitano quando il 30 gennaio riceverà la laurea ad onorem dell'Università di Bologna. E almeno in quel caso c'è da augurarsi che non ci siano le solite stucchevoli polemiche. E dopo il caso Cancellieri è lo stesso istituto della cittadinanza onoraria ad essere messo in discussione. Questo è il commento del consigliere regionale del Partito Democratico e il consigliere comunale Maurizio Cevenini. Ma sono tante le voci critiche per l'esito di questa vicenda. Vediamo una rapida panoramica nel servizio di Gabriele Sciarra. La delusione e l'amarezza espressa muso duro dal sindaco Virginio Merola per il nulla di fatto sulla concessione della cittadinanza onoraria all'ex commissario di Bologna, Anna Maria Cancellieri, non è certo rimasta voce isolata. E se c'era una certa trasversalità nella polemica politica che ha poi indotto l'attuale ministro dell'interno a rinunciare all'onorificenza, ora è il momento del rammarico, anche questo bipartisan. Detto del sindaco, anche per il deputato PDL Giuliano Cazzola si tratta di una vicenda triste, nata e condotta male e finita pure peggio. Una storia nella quale la classe politica bolognese nel suo insieme, prosegue Cazzola, non è riuscita ad interpretare i sentimenti di gratitudine dei cittadini per il lavoro svolto a Bologna dall'ex commissario prefettizio. Ancora più duro il coordinatore regionale del PDL, senatore Filippo Berselli, per il quale i politici bolognesi hanno dato un'ulteriore prova, dice testuale di cretineria politica, inducendo la cancellieri con polemiche meschine provinciali a rinunciare all'onorificenza di triste vicenda. Parla anche la casiniana Silvia Noè, che affide il suo commento a Facebook. Per la responsabile del gruppo Udc in regione, la politica bolognese ha offerto una brutta immagine di sé, mettendo in imbarazzo una persona che ha lavorato per il bene di Bologna in un periodo molto delicato per la città. Intanto, la polemica rientra là dove era scaturita in Consiglio Comunale e riprende vigore. Così, mentre la Presidente Simona Lembi condanna quelle divisioni e incertezze sulla cancellieri emersi in aula, che hanno anche messo a nudo una certa distanza dell'istituzione dalla città, la sua vice Francesca Scarano del Carroccio replica, dicendo di non ritenere opportuno un attacco da parte della Presidente in precedenza all'operato del Consiglio Comunale su tematiche importanti, ma non vitali e urgenti per la vita di Bologna. E del caso della cittadinanza onoraria sfumata, Anna Maria Cancellieri ha parlato oggi in studio a Dedalus anche il Vescovo Ausiliare Emerito, Monsignore Ernesto Vecchi, sarà ospite dunque della puntata di questa sera di Dedalus, che potrete vedere in onda su questa emittente a partire dalle ore 21, ma sentiamo appunto cosa ha detto il Vescovo Ausiliare Emerito, in merito a questa vicenda. Cittadinanza onoraria alla Cancellieri, ecco Monsignore di Bologna, oggi Ministro degli Interni, insomma lì non si capisce chi di sì, chi di no, litiga su, litiga giù, sembra che ieri la Cancellieri abbia detto grazie, smettete di litigare, non mi date niente, faccio il Ministro, punto e base, ecco, non lo so, boh, beh a me è dispiaciuto, però voglio dire una cittadinanza, insomma, o si è, o vuole all'unanimità, ecco, e penso che lei sia stato un segno, no, il fatto stesso che fosse stata invitata a candidarsi, le ha detto no per non dividere, ecco, la città, quindi poi è stata riconosciuta nella sua validità facendo la Ministro dell'Interno, insomma per Bologna era un bel segno, invece stamattina ho visto su un giornale che dicono è una figuraccia, ed è una figuraccia, di che sia la colpa non lo so, però alla fine ha fatto bene a lei a dire beh basta, mettetevi d'accordo a me Bologna. Ma è possibile discutere su tutto, diciamo con tutte le problematiche che abbiamo? È la logica della nostra realtà oggi, quando uno chiusi in se stesso, quello che fa l'altro non gli va bene, e se è anche una cosa bella non mi importa, devo dire di no perché la dice lui, questa incapacità di uscire da se stessi, ecco l'amicizia civile. Cambiamo argomento, ma torneremo sulla puntata di questa sera di Daedalus con Monsignor Vecchi Ospite, cambiamo argomento, dicevo, rinuncerà ad ogni possibile prescrizione l'ex sindaco di Bologna, Giorgio Guazzaloca, indagato dalla procura di Bologna per corruzione nell'inchiesta sul Civis, lo comunica il suo difensore l'avvocato Guido Magnisi, dopo un'attenta puntigliosa lettura, spiega a Magnisi delle circa 20.000 pagine del fascicolo processuale, un'opinione si è trasformata in una ragionevole certezza, la certezza della totale innocenza di Guazzaloca in relazione ai fatti ipotizzati e di conseguenza l'assoluta fiducia in una pronta e sollecita archiviazione. Ben presto, aggiunge Magnisi, depositerò una memoria difensiva, si spera convincente ed esaustiva, per cercare di rimediare il vulnus arrecato all'immagine di assoluta correttezza del mio assistito. Guazzaloca e Magnisi rinunceranno, ha detto Magnisi, rinuncerà sin da ora a possibili prescrizioni passate, presenti, future, già maturate o maturande. Voltiamo pagina, continua a Bologna la protesta dei tassisti contro la liberalizzazione delle licenze, in vista del blocco nazionale, poi del prossimo 23 di gennaio. Intanto oggi la giunta comunale ha detto sì alle liberalizzazioni, ma lasciando comunque il potere ai comuni di applicarle poi sul territorio. Vediamo. La giunta Merola conferma il proprio gradimento nei confronti delle liberalizzazioni e ritiene condivisibili le dichiarazioni rilasciate dalla vice sindaco Giannini e dall'assessore Monti sulle licenze dei taxi. Insomma, Palazzo d'Accursio considera positiva la strada imboccata dal governo per liberalizzare le licenze dei tassisti perché fanno riferimento ai benefici generali che deriverebbero da un aumento delle licenze per gli utenti del servizio. Lo ha detto questa mattina in Consiglio Comunale l'assessore al traffico Andrea Colombo a nome di tutta la giunta rispondendo alle domande nel question time. Tuttavia, ha proseguito Colombo, intendiamo aggiungere un giudizio di inadeguatezza su ogni provvedimento che privi radicalmente i comuni di un potere di coordinamento e di condivisione che a nostro avviso è il modo più efficace per evitare che misure generali prescindano poi dalla concreta organizzazione della vita quotidiana nella città. L'assessore al traffico ha in questo caso fatto l'esempio delle liberalizzazioni degli orari dei negozi. Ma la norma vera e propria deve ancora essere approvata. Dunque, al di là delle proposte avanzate dall'antitrust, il Comune aspetterà il testo del decreto del Governo. Intanto si muovono anche i tassisti. Oggi pomeriggio a Centinaia si sono riuniti a Parco Nord e una delegazione ha incontrato poi l'onorevole Fabio Garagnani del PDL che sta preparando un'interpellanza parlamentare contro le liberalizzazioni. Dissento dalla logica del provvedimento, ha dichiarato il deputato. Siamo adesso alla cronaca. Un amore finito è stato il motivo che ha spinto un giovane rumeno di 24 anni, regolare in Italia e residente a Bologna, a togliersi la vita. Nelle prime ore di questa mattina nel Parco dei Cedri impiccandosi ad un albero con la sua cintura a scoprire il cadavere un passante che poco dopo le 7 ha allertato i carabinieri. Il 24 anni faceva l'imbianchino e lavorava in proprio. Dalla ricostruzione fatta dai militari dell'arma che hanno sentito anche l'ex fidanzata, una ventenne rumena che lo aveva lasciato nell'agosto scorso. Il rumeno continuava a chiederle di riallacciare la relazione senza però raggiungere lo scopo. Da qui la presunta delusione amorosa poi sfociata nel suicidio. Nuovo capitolo del caso Lombardelli trattato oggi in comune a Bologna. L'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto ha firmato atti illegittimi. Hanno spiegato i dirigenti comunali che però insieme al sindaco difendono Lombardelli e giudicano comunque regolari le procedure legate alla sua assunzione. Vediamo. Gli atti firmati dall'ex responsabile dell'ufficio di gabinetto del comune di Bologna, Marco Lombardelli, sono illegittimi. Si complica la vicenda legata all'esponente del PD inquadrato dall'amministrazione comunale in modo non conforme al suo titolo di studio, poi dimessosi spontaneamente. Il caso Lombardelli è stato trattato in mattinata durante la seduta della commissione consigliare affari istituzionali ed è stato il segretario generale del comune, Luca Uguccioni, ad affermare che gli atti firmati dall'ex responsabile di gabinetto sono illegittimi, aggiungendo però che si trattava di atti utili all'ente, giuridicamente non sono atti nulli ma annullabili. Si tratta di missioni con il sindaco o di cose più futili come un servizio fotografico per gli assessori o la riparazione del boccione dell'acqua. Lombardelli non aveva poteri di spesa, aggiunge il segretario, non poteva firmare atti attraverso i quali si agisce sulle persone come assunzioni o concessioni di autorizzazione ma poteva fare delle cose su delega dei dirigenti e lui pur non essendo un dirigente poteva essere considerato un funzionario di fatto. Questa la dichiarazione del segretario generale cui hanno fatto eco altri funzionari comunali secondo i quali l'incarico di Lombardelli era regolare, la sua assunzione è ineccepibile. E anche il sindaco Virginio Merola ha difeso l'ex collaboratore, giudicato una degnissima persona che si è dimesso per scrupolo pur non essendo costretto a farlo. Per quanto mi riguarda l'argomento è chiuso, per fortuna la cosa ora è nelle mani della procura e della corte dei conti, ha concluso Merola. La minaccia con un taglierino è costata una denuncia ad un 36enne bolognese con precedenti che ieri sera stava infastidendo i clienti del Paradise Bistro Bar di Via Emilia Ponente quando il titolare gli ha detto di smetterla. L'uomo ha estratto un taglierino e glielo ha puntato contro minacciandolo. A quel punto il gestore ha chiamato il 113 e il bolognese è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre l'uomo aveva con sé uno zaino in cui gli agenti hanno trovato e sequestrato due coltelli, uno di 26 centimetri e uno più piccolo multiuso. Nuova polemica che investe ferrovie dello Stato. Rete Ferroviaria Italiana chiede ai dipendenti della manutenzione l'autoriduzione del riposo giornaliero in cambio di un buono pasto e scatena a questo punto l'ira della Will che va dritta in procura. Sentiamo perché con Alessia Salvatori. Autoridursi da 11 a 8 ore in cambio di un buono pasto il periodo di riposo giornaliero, cioè l'intervallo tra il turno diurno e quello notturno. È la richiesta che Rete Ferroviaria ha fatto ai propri dipendenti Emiliano Romagnoli del settore manutenzione a denunciarlo Will Trasporti che sulla vicenda ha presentato un esposto in procura a Bologna per verificare se può configurarsi un reato. La richiesta illecita, così la definisce rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro Alberto Russo, era arrivata verbalmente spiega il sindacalista attraverso i dirigenti locali dopo una riunione prima di Natale. Il problema per la Will è che accorciare la pausa ha ricadute sulla sicurezza. Le 11 ore spiega il sindacato servono a garantire il recupero psicofisico dei lavoratori che spesso operano con macchinari complessi, di notte in galleria, sempre sui binari, in condizioni quindi pericolose. Poi quando ci sono gli incidenti con i morti si piange, chiosa con sarcasmo il rappresentante dei lavoratori. Dunque la richiesta di Rete Ferroviaria italiana viene bollata dalla Will come superficialità colpevole, fuorviando quanto previsto dal decreto legislativo del 2003 che recepisce la direttiva europea in materia di orari di lavoro e ricorrendo inoltre in una irregolare contrattazione. Insomma per il sindacato chiedere di sottoscrivere l'autoriduzione scambiandola con il contentino del buono pasto riconosciuto dagli accordi in essere ma che l'azienda ha smesso di dare è cosa grave. Sarà la procura adesso a dire se in tutto ciò si configura un reato. Ancora un caso di stalking, questa volta in manette è finito un 31enne residente a Bologna, ad arrivare a lui è stata la questura di Sondrio che ieri sera lo ha arrestato nel capoluogo Emiliano, l'uomo è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale Valtellinese per una serie di comportamenti persecutori sfociati in lesioni personali gravi nei confronti dell'ex convivente e una giovane donna residente in Valtellina. E dicevamo poco fa della puntata di questa sera di Dedalus in onda alle 21 in cui sarà ospite il vescovo ausiliare merito della diocesi di Bologna, Monsignor Ernesto Vecchi, ne vediamo un altro passaggio in cui si parla del momento, certamente difficile attuare anche per l'Italia, ma ciò di cui c'è davvero bisogno oggi è riscoprire la fede, vediamo. Adesso tutto spettato dal povero Presidente Monti che è bravissimo, però cosa aspettate poveretto, lui deve aiutarci a tirare la cinghia, però alla fine se non ci mettiamo mica dentro una verità che è più forte e più alta di noi, che è fatta simile a noi per tirarci su, ecco questo è il passaggio dal tempo del Natale che ci ha detto attenti, la storia noi non siamo soli, è entrato questo bimbo, questo bimbo è Dio, vero Dio è vero uomo, i magi addirittura, gli intellettuali di allora che scrutavano le stelle ma non per avere l'oroscopo ma per realizzare proprio la sintesi fra la ricerca dell'uomo, le profezie della parola di Dio, della scrittura, hanno capito che il tempo era pieno per la nascita di questo bimbo, però questo bimbo adesso vive tutti i giorni, non è lì ogni momento a fare il miracolo che noi vogliamo, ma è lì per sostenersi nelle difficoltà della vita. Ci fermiamo adesso, una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire con il telegiornale rivediamo il sommario, Virginio Merola attacca duramente il Consiglio Comunale, dopo le spaccature sulla cittadinanza onoraria ad Anna Maria Cancellieri, un'indecenza e una mancanza assoluta di buonsenso, dice il sindaco. Mondo politico bolognese sotto accusa sulla vicenda a Cancellieri, molte le critiche per le polemiche che hanno costretto il ministro dell'Interno a rinunciare alla cittadinanza, a ETV Monsignor Vecchi dice è una figuraccia. Ok alle liberalizzazioni, ma le decidiamo noi. Il Comune, per bocca dell'assessore Andrea Colombo, interviene sullo scontro tra governo e taxisti e chiede una maggiore autonomia per gli enti locali, soprattutto per ciò che riguarda gli orari dei negozi. Sulla vicenda a Civis, Giorgio Guazzalocca rinuncia ad ogni possibile prescrizione ed è pronto a presentare in procura una memoria difensiva che sottolinei la sua totale innocenza. L'ex sindaco indagato per corruzione si dice fiducioso in una completa archiviazione. Gli atti firmati da Marco Lombardelli sono illegittimi e quanto emerge oggi nella vicenda dell'ex capo di gabinetto del Comune, dimessosi in seguito alle polemiche sul suo titolo di studio, lo ha confermato il segretario generale di Palazzo d'Accursio. Andiamo avanti con il Tg, la compagnia di assicurazione bolognese. Unipola entrerà a fare parte di un polo assicurativo che diventerà secondo in Italia per importanza. Questo grazie ad un accordo con alcuni istituti della Galassia Ligresti. Sull'argomento vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. La bolognese Unipol e i quattro membri della famiglia Ligresti hanno sottoscritto oggi una lettera di intenti non vincolante con la quale la compagnia d'assicurazioni ha manifestato la propria disponibilità a perseguire un progetto di integrazione per fusione tra Unipol, Premafin, Fondiari Assai e Milano Assicurazioni. Il primo passo è verso la creazione di un maxi polo assicurativo che diventerà il secondo in Italia subito alle spalle di generali. La compagnia bolognese acquisirà le quote di Premafin in mano alla famiglia Ligresti e promuoverà un'OPA sulle residue azioni Premafin, la holding che controlla il 35% della Fonsai. Per rilevare il controllo di Premafin Unipol verserà alla famiglia Ligresti una cifra che sfiora i 77 milioni di euro. Allo stesso tempo la compagnia bolognese ha ottenuto dai Ligresti la disponibilità alla sottoscrizione di un patto di non concorrenza della durata di 5 anni. Con questo patto i Ligresti si impegnano a non avvalersi dei consolidati rapporti con la rete di agenzie e la clientela del gruppo Fonsai. Un patto di non concorrenza per il quale Salvatore Ligresti e i suoi tre figli riceveranno ciascuno 700 mila euro l'ordi l'anno. L'intesa prelude all'uscita dei Ligresti dal gruppo fondiari Assai e la Borsa di Milano ha reagito oggi in modo positivo facendo registrare sostanziosi segni più davanti ai gruppi assicurativi controllati dai Ligresti e in procinto di passare a Unipol. Segno più anche davanti al titolo della compagnia bolognese nonostante alcuni timori dovuti all'aumento di capitale che la Unipol dovrà affrontare nell'ambito del piano di fusione. Per la pagina dello spettacolo andiamo adesso all'Europa Auditorium perché domani e domenica Massimo D'Apporto e Antonella e Lia porteranno in scena La Verità, storia di infinite bugie. Vediamo allora di cosa si tratta con Alessia Salvatori. C'è anche la commedia al Teatro Europa Auditorium di Bologna. Il 14 e 15 gennaio arriva La Verità in scena Massimo D'Apporto, Antonella e Lia e altri naturalmente attori per una commedia abbastanza particolare. Beh innanzitutto particolare ma soprattutto premiata è una commedia di un giovane, di un giovane drammaturgo contemporaneo Florian Zeller che ha riscosso l'anno scorso proprio negli inizi del 2011 un grandissimo successo di critiche di pubblico a Parigi al Teatro Montparnasse tanto che ha convinto la produzione italiana a produrla in Italia. La Verità è una è una commedia brillante, una commedia che il cui titolo trae in inganno perché è una verità Alessia sulla menzogna dove tutti mentono a tutti a partire ovviamente dal protagonista Michel il quale è un mentitore incallito ai quali gli altri tre protagonisti della commedia per forza di cose devono mentire. Alla fine la matassa viene dipanata o no? Assolutamente sì, la fine ovviamente è un lieto fine ma diciamo che il pubblico verrà accompagnato in tutta la storia, in queste due ore spassose e divertenti verrà accompagnato in questa storia tra tradimenti veri e tradimenti presunti. Ancora una breve pausa pubblicitaria tra poco. Il nuovo studio con Etigi c'è solo il tempo per rivedere i principali argomenti del nostro telegiornale. Virginio Merola attacca duramente il Consiglio Comunale dopo le spaccature sulla cittadinanza onoraria ad Anna Maria Cancellieri. Un'indecenza e una mancanza assoluta di buonsenso dice il Sindaco. Mondo politico bolognese sotto accusa sulla vicenda Cancellieri. Molte le critiche per le polemiche che hanno costretto il ministro dell'interno a rinunciare alla cittadinanza, a Etivu Monsignor Vecchi dice è una figuraccia. Ok alle liberalizzazioni ma le decidiamo noi. Il comune per bocca dell'assessore Andrea Colombo interviene sullo scontro tra governo e i taxisti e chiede una maggiore autonomia per gli enti locali, soprattutto per ciò che riguarda gli orari dei negozi. Sulla vicenda Civis Giorgio Guazzalocca rinuncia ad ogni possibile prescrizione ed è pronto a presentare in procuro una memoria difensiva che sottolinei la sua totale innocenza. L'ex sindaco indagato per corruzione si dice fiducioso in una completa archiviazione. Gli atti firmati da Marco Lombardelli sono illegittimi e quanto emerge oggi nella vicenda dell'ex capo di gabinetto del comune, dimessosi in seguito alle polemiche sul suo titolo di studio, lo ha confermato il segretario generale di Palazzo D'Affursio. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.